bimbe buongiorno eccoci qua con la decorazione iniziale decorata con i fiori questo decoro la garza attacca questo decoro lo potete mettere veramente da qualsiasi parte attaccato alle porte nelle camerine nelle camere marito e moglie fidanzati ognuno con la sua iniziale quindi si personalizza molto bellino le lettere sono in legno non in gesso sono in legno quindi se cade in terra non si rompe allora cosa ho utilizzato la garza accoppiata al pannolenci ho utilizzato ovviamente la lettera ognuno può scegliere la sua ho utilizzato il cordone per legare tutto insieme e i nastri di garza ciascun fiore è composto da un numero diverso di petali questi fiori in alto sono più i petali dei fiori in alto sono più grandi quelli dei fiori in basso sono più piccoli questo ovviamente la descrizione di tutto ciò lo trovate sul cartamodello quindi sul cartamodello troverete da quanti pezzi sono composte le varie rose sia quelle piccole che quelle grandi ok ci siamo vado avanti vai allora come faccio prendo ritaglio dal cartamodello prima allora one moment prima cosa faccio come sempre accoppio la garza utilizzando la termoadesiva con il pannolenci quindi pannolenci sotto termoadesiva garza sopra foglio di carta da forno ferro da stiro con il calore accoppio le due i due tessuti ok quindi una volta fatto questo mi ritrovo il mio pezzo di stoffa vado a ritagliare tutti i petali per realizzare i miei fiori prendo una pallina di tre centimetri per fare il pistillo la parte centrale del fiore vado a mettere allora vado a mettere la colla qua prendo la mia pallina faccio in questo modo metto la colla sopra la pallina vado completamente a chiudere è un po il procedimento che abbiamo fatto per la rosa per la rosa i pezzi erano qui mi si è scollata quindi faccio così per la rosa i pezzi sono tutti collegati qui invece si viaggia con un petalo solo e lo rimetto all'incontrario colla qua metto il mio petalo e vado a chiudere in questo modo qua il mio bocciolo continuo continuo con i miei continuo con i miei petali a girare intorno allora io ho messo la parte della pannolenci all'interno ok ho messo la parte del pannolenci all'interno come vedete bene qua e la parte della garza all'esterno mi piaceva di più questo effetto che fatto al contrario perché poi nell'insieme come vedete il colore della garza viene comunque fuori anche se accoppiato con un pannolenci bianco ok quindi continuo a girare i miei petali intorno alla pallina in questo modo in questo modo qua finché non ho raggiunto il numero li metto scambiati in questo modo continuo non sto a farvi vedere tanto la cosa è molto semplice continuo in questo modo finché non ho raggiunto il numero dei petali che vi ho descritto cosa vado a fare poi vado a mettere il sepalino cioè la parte la parte dietro della del fiore e chiaramente dovete realizzarla dovete ritagliarla ritagliarla sul verde e in questo modo ho realizzato le mie cinque rose allora per incollare allora per mettere insieme queste tre rose cosa ho fatto preso un pezzo di feltro ho tagliato un rettangolo troverete chiaramente il feltro nel cartamodello e vado ad incollare qua sopra le mie tre rose in questo modo le incollo tutte e tre belle unite insieme la parte in eccesso del feltro che mi rimane la ritaglio la taglio come vedete vedete sono andata a ritagliarla e mi è rimasto diciamo questo pezzo libero allora prendo il cordone e cosa faccio mi creo l'asola in questa maniera quindi vado a prendere un pezzetto di feltro vado a girare intorno al mio cordone più o meno a questa altezza lasciando 10 12 centimetri vado a incollare il feltro la striscia di feltro intorno al mio cordone in modo da bloccarlo in questo modo quindi lo incollo così andrò una volta fatto questo andrò ad applicare le mie rose in questa maniera vedete metto che sono già unite insieme li metto sopra l'incollo qua e quindi si bloccano senza problemi allora poi le due rose le due rose le vado a mettere le due rose piccole le vado a mettere all'estremità del mio cordone quindi in fondo qua in fondo andrò ad incollare la mia rosa vedete bene qui nel particolare vado ad incollare la mia rosa andrò poi a decorare con i fiocchi di garza la parte alta dei fiori e la parte bassa sia a destra che a sinistra quindi questo kit completo le lettere ah è giusto la lettera la lettera giustamente la lettera la metto la incollo centralmente al mio cordone cosa fate una volta che avete messo le rose in alto le rose in basso tenete il il cordone messo lo mettete sul tavolo andate ad incollare la la lettera ovviamente come più vi piace con il cordone più o meno allargato anche ovviamente in base alla lettera che è se è la m un po più larga se è la i è un po più lunga quindi dovete un po adattarvi allora ripeto tutto il kit compreso il materiale che vi ho fatto vedere compreso di carta modello viene 22 euro la lettera singola potete acquistarla singola non con il kit extra kit potete acquistarla viene 8 euro invece il kit completo di tutto inclusa la lettera viene 22 euro potete contattarmi su whatsapp al 345 4273 111 oppure su messenger trovate il tutorial sulla mia pagina facebook merceria creativa oppure sul canale youtube merceria creativa allora dopo questa maratona di tre tutorial uno di un altro vi saluto e vi do appuntamento al prossimo ciao bimbe